ciao amici e benvenuti in questo nuovo video sul bunker wild prima di iniziare come al solito vi chiedo un like sul video per chi invece non è iscritto gli chiedo di iscriversi al canale poiché interazioni come e mi piace oppure le iscrizioni sono molto molto importanti per il canale detto questo oggi testeremo analizzeremo questa cartuccia è una cartuccia in calibro 410 una 19 grammi in piombo 11 pensata strutturata per tra virgolette sfruttare due componenti poco utilizzati con la tipologia di polvere andremo a vedere oggi è con questo contenitore che è un gualandi h 27 una micro container nana mentre il bossolo è un bossolo che dite da 73 con innesco cx 50 un bossolo molto utilizzato per ricaricare polveri tipo m 410 oppure lovex di 0 37.2 però non tanto utilizzato per polveri come la sp3 è l'assetto che andremo a vedere oggi è realizzato proprio con una sp3 lotto 288 22 il lotto della discordia scherzi a parte un lotto più progressivo confronto agli altri quindi di conseguenza non sarà facile farlo lavorare bene su un innesco di tipo cx 50 come questo che andremo a utilizzare oggi o meglio la cartuccia verrà assemblata in modo da far lavorare bene anche questo lotto con un innesco bassa potenza come il cx 50 l'assetto originario è realizzato sul bossolo che dite rosso io per una questione di comodità per farvi vedere per illustrarvi meglio l'assetto utilizzerò un bossolo trasparente prima di iniziare siccome abbiamo un bossolo non svasato nel quale dopo andremo a mettere il contenitore e il cartoncino noi cosa faremo per prima cosa allargheremo quindi no che svaseremo allargheremo un pochino il bossolo all'apice così da favorire l'inserimento quella fine del del dischetto andiamo a mettere all'interno del bossolo la sp3 288 22 che è stata dosata in un grammo e 20 dopodiché come avete visto prima ho provveduto ad allargare il bossolo per facilitare l'inserimento della alla fine del cartoncino di chiusura mentre adesso provvederò ad allargare la cubetta dell'h27 così da evitare che la polvere risalga esca fuori dalla cubetta facciamo in modo che la cubetta sia ben aderente alle pareti del bossolo e lo andremo a fare spingendo la cubetta su una parte tonda così come può essere il calca borre ok devo spingere così in modo che si allarghi non resterà larga in eterno quindi ci conviene inserirlo subito ok come pallino invece si è scelto un piombo 11 in dose di 19 grammi quindi 19 grammi di pallino dell'undici facciamo assestare per bene i pallini e procediamo l'inserimento del cartoncino che come vedete è facilitato dal operazione che abbiamo fatto prima cioè allargare leggermente la punta del bossolo utilizzando questo allarghi a bossoli che di solito viene utilizzato per facilitare l'inserimento delle borre nei bossoli già sparati nei bossoli da riciclare allora provvediamo ad alimentare la nostra pressa e procediamo alla chiusura dell'assetto in orlo tondo ad una quota di 69 mm ed eccoci con la cartuccia chiusa in orlo tondo ad una quota di 69 mm andiamo al succo dell'assetto di oggi allora come il solito come il solito assetto realizzato e bancato dal trio big vi ho detto prima che questo lotto di sp3 è il risultato confronto agli altri dotato di una progressività maggiore per questo motivo alex ha usato un bossolo da 73 così da ridurre i volumi poiché una cartuccia a parità di dose polvere piombo su dei volumi minori avrà una commissione accelerata e di conseguenza una pressione più elevata quindi la scelta del bossolo da 73 per quanto riguarda invece il contenitore si è fatto lo stesso identico ragionamento si è utilizzato un contenitore della gualandi a cubette ampia un contenitore che confronto ai contenitori che normalmente utilizziamo per le cariche magnum quindi contenitori tubi quali possono essere il baschieri o le borre lb tende ad aumentare la pressione quindi per questo motivo la scelta è ricaduta su questo contenitore anche perché serviva un contenitore che permettesse di gestire i volumi per arrivare logicamente a quota chiusura quindi anche la scelta del pallino un pallino della numerazione dell'undici è andata verso questa direzione si è cercato di dare maggiore intesamento utilizzando un pallino più piccolo nella consapevolezza che non avremmo comunque visto l'innesco un assetto dalle pressioni elevate dalle velocità elevate si è optato verso un pallino fine quindi un pallino che non ha bisogno di tantissima accelerazione verso un contenitore che di solito viene utilizzato per il tiro sulla media distanza allora detto ciò per vedere se tutto questo ragionamento alle fine avuto senso scopriamo i valori della prova in canna manometrica come il solito vi ricapitolo l'assetto assetto realizzato in bossola 73 con innesco cx 50 polvere sp3 lotto 288 22 in dose di un grammo e 20 contenitore micro container gualandi h 27 19 grammi di piombo pallino dell'undici il tutto chiuso in orlotondo su cartoncino ad una quota di 69 mm sono stati provati quattro colpi questi quattro colpi hanno dato un tempo di canna pari a 2.956 microsecondi vi ricordo che parliamo di un assetto in calibro 410 di un assetto magno di un assetto che utilizza polveri particolarmente progressive e che in questo caso utilizza anche un innesco a bassa potenza per questo motivo abbiamo un tempo di canna pari a 2.956 microsecondi velocità misurata due metri e dal vivo di volata pari a 367 metri al secondo velocità media come vi ho detto due metri e mezzo quindi parliamo di una velocità ad esempio su canna full ad un metro di quasi 390 metri al secondo velocità che alla fine si sposa benissimo con un pallino dell'undici poiché il pallino di piccole dimensioni si stressa moltissimo e decelera in un modo molto più rapido e tende a non mantenere la propria traiettoria se lanciato al velocità che solitamente usiamo per pallini più grandi il tutto con una pressione media di 738 bar con un delta pressorio di soli 47 bar quindi ne uscita fuori anche una cartuccia molto costante tre colpi con una pressione che va a collocare questo assetto tra gli assetti da utilizzare con clima caldo o con clima non particolarmente freddo poiché il calo delle temperature in maniera consistente andrebbe sicuramente ad intervenire ad interferire sulla combustione magari facendo collassare questo assetto ma parliamo logicamente di temperature veramente fredde parliamo di un assetto che ad esempio nelle mie condizioni solite condizioni di caccia posso utilizzare dall'inizio della stagione venatoria fino anche a dicembre visto le temperature particolarmente miti è un assetto è una 19 grammi quindi parliamo veramente di tanti pallini che può essere usata ad esempio per la caccia alle all'odole o durante il passo dei tordi o in tutte quelle situazioni dove di solito siamo abituati ad utilizzare un pallino dell'undici è una cartuccia che dovevo anche mostrarvi provata in placca considerando che la prova in placca è una prova soggettiva poiché cambiando fucile cambiando strozzatore logicamente non avremo gli stessi risultati quindi è una prova che deve essere considerata come specifica con quel fucile con quelle strozzature ma è una prova che sicuramente riuscirà a dare una indicazione sull'impronta in placca della rosata utilizzando un pallino dell'undici quindi in questo caso noi riusciremmo ad allargare la rosata visto il buon quantitativo di pallini logicamente riferito al calibro mantenendo però una certa densità pertanto potremmo modulare questa rosata variando distanze e strozzatori in modo da avere da poter utilizzare una rosata più ampia di quanto facciamo solitamente con il piccolo calibro assetto che vi invito come il solito a provare assetto che in base alle proprie caratteristiche cioè la velocità non particolarmente elevata alla spinta molto progressiva dovrebbe avere una buona rosata per buona rosata intendo una rosata omogenea quindi non ampia o stretta quella andremo a modulare noi tramite gli strozzatori che utilizzeremo prova in placca rinviata causa maltempo che però provvederò a fare appena ce ne sarà occasione spero di aver detto tutto vi ringrazio per la visione anche di questo video e vi do appuntamento al prossimo quindi per non perdere l'uscita dei nuovi video vi ricordo di attivare la campanella al prossimo video dal bunker wild ciao